carissimi fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi la gloria del signore si manifesta in ogni istante nella nostra vita anche se i nostri sensi non sembra riescono a percepire la presenza di dio lo spirito però si manifesta continuamente amandoci provvedendo perdonandoci sostenendoci dandoci segni sorreggendoci con la parola di dio nutrendoci dei sacramenti dell'amore del fratello del nostro prossimo lo spirito santo viene sempre incontro a noi e prima che noi lo invochiamo lui si fa vicino perché è l'amore del genitore che previene l'amore del bambino e l'amore del genitore che fa crescere il bambino nella sua realtà vogliamo questo amore del signore viene spirito creatore visita le nostre menti riempi della tua grazia i cuori che hai creato o dolce consolatore dono del padre altissimo acqua viva fuoco amore santo crisma dell'anima dito della mano di dio promesso dal salvatore irradia i tuoi sette doni suscita in noi la parola si luce all'indelletto fiamma ardente nel cuore sane le nostre ferite col balsamo del tuo amore difendici dal nemico reca indoro la pace la tua guida invincibile ci preservi dal male luce ed eterna sapienza svelaci il grande mistero di dio padre e del figlio uniti in un solo amore sia gloria dio padre al figlio che risorto allo spirito santo nei secoli dei secoli amen la parola di dio fratelli ci viene in soccorso la dio si manifesta a noi con la sua parola san paolo nella lettera ai romani parlando di pagani dice che dio ha rivelato se stesso attraverso la creazione molte persone che fanno fatica ad accettare la esistenza di dio stesso bene ma guardando il creato guardando la molteplicità degli elementi della natura la sua perfezione la sua ricchezza arrivano a dire è impossibile che tutto questo sia avvenuto senza che ci sia stata una mente ci sia stata una sapienza una potenza un amore e davvero perché la mente umana scrutando il creato vedo una ricchezza straordinaria guardando poi il cielo oggi si ha notizie di stelle che stanno a migliaia di anni luce dalla terra pensato un po un raggio di luce percorre in un secondo 300 mila chilometri parlare di un anno luce vuol dire lo sappiamo bene che quel raggio per farsi vedere ha viaggiato a 300 mila chilometri al secondo per un anno intero se parliamo di migliaia di anni pensato un po la mente umana si perde e davanti a questa grandezza l'uomo riduce se stesso cos'è mai l'uomo perché te ne ricordi un figlio dell'uomo perché te ne curi eppure l'hai fatto poco meno degli angeli la parola di dio ci viene quindi incontro fratelli e ci sveglia ciò che la mente umana non riesce ad afferrare e questa parola un giorno colpì il cuore di un giovane che si chiamava Antonio oggi infatti la chiesa ricorda santa Antonio abate nacque si ritiene nel 251 erano in epoche di persecuzioni ma la chiesa d'egitto era che soprattutto la chiesa di alessandra era molto sviluppata era molto prospera e diciamo anche che tanti si stanno perdendo dietro una vita mondana questo giovane Antonio in chiesa sentì le parole del signore lui era figlio di genitori abbastanza benestanti proprietari di terra sentire parole del signore che diceva va vendi quello che hai dalla ai poveri poi vieni e seguimi e lui si sentì penetrato dalla parola di dio e dette via gran parte di quello che aveva tenne una parte per mantenere una sorella che era ancora giovane ma in un secondo momento la parola di dio si fece sentire non preoccuparti di come di quel che mangerai di come ti vestirai e allora dette via tutto e affidò la sorella a una comunità di vergini e lui vuole ritirarsi in luoghi solitari prima in una una tomba poi nel deserto per dedicarsi totalmente alla contemplazione e all'amore di dio a meditare la parola del signore e questo la sua vocazione ma non per reazione soltanto ad un mondo che ormai cominciava a deviare quando piuttosto avrà un bisogno di incontrarsi con dio e infatti lui alcune volte uscì dal suo eramo per soccorrere i cristiani perseguitati durante una brutta persecuzione lui si recò in tribunale dove i cristiani venivano processati per incoraggiarli e si dichiarò davanti ai giudici cristiano con la speranza che lo prendessero per sostenere gli altri fratelli nella prova così gli fu detto e gli fu insegnato che la cosa più grande davanti a dio è la carità perciò a qualche altra volta si mosse per andare incontro a persone che erano in grandi necessità ma lì nella sua nel suo erano lui riceveva anche visitatori aveva anche dei discepoli tra questi ebbe un grande discepolo santa danasio che divenne poi vescovi d'anessandria d'egitto grande difensore della fede della dottrina della fede della divinità di gesù cristo sette presso di lui due anni e santa danasio alla sua morte ne volle anche scrivere una vita ci ha voluto raccontare la vita di santa antonio abbate soffermandosi in modo particolare sul dono che lui aveva delle discerne gli spiriti una volta da santa antonio abbate andarono due eremiti che si accompagnarono con l'asino ma durante la traversata del deserto quest'asino morì e quando santa antonio abbate seppe che stavano arrivandoci fuori andò incontro a loro e disse vi è morto l'asino fratelli e loro risposero padre ma come lo sai il diavolo me l'ha suggerito cioè vuole dire a loro che avevano delle visioni dio non viene a portare le curiosità soddisfare gli interessi lo spirito santo di dio luce verità è staccato da ogni piacere un terreno e questi monici invece cercavano consolazione avendo soddisfazioni messaggi visioni cose del genere no dio non viene a portarvi le curiosità queste curiosità non vengono da dio ma dall'avversario per distrarvi per suscitare voi ambizione vedete questo santo aveva una grandissimo dono di discernimento degli spiriti e anche nelle notte contro satana dovete combattere una volta un condadino che li portava da mangiare due volte alla settimana lo trovò svenuto per terra loro se lo caricò sulle spalle lo condusse a casa sua e quando lui si riebbe disse al condadino riportami dove mi hai trovato era stato ridotto in quel modo da satana e lui diceva non mi devo arrendere perché non voleva arrendersi perché combattendo e vincendo avrebbe ottenuto vittoria sul maligno come dice san pietro che ha sofferto nella sua carne e ha resistito ha rotto definitivamente col peccato signore gesù che sostenuto santo antonio abate nelle sue lotte ne hai fatto un vingitore le hai reso una fa una luce un faro che ha illuminato la tua chiesa nel conservare la fede in mezzo alle persecuzioni in mezzo alle prove in mezzo alle tentazioni del mondo oggi soccori la tua chiesa che invoca il tuo nome santo tu l'ami fino alla morte la morte di croce e prima che noi ti invochiamo tu ci hai già ascoltato e prima che possiamo sentire la tua risposta ci hai già esaudito grazie signore di questo amore che hai per la tua chiesa tu ci stai soccorrendo tutti sostiene quando signore si trovano in difficoltà a te sia gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amen vergine santissima tu sostieni la tua chiesa sostieni il tuo popolo spesso in difficoltà in tante parti di questo mondo ancora oggi ma ti manifesti porta i tuoi messaggi e ammonisci la tua chiesa sostieni i tuoi figli che ami perdutamente gesù ci ha affidati a te per quest'amore oggi supplica al padre che mandi presto il figlio suo gesù cristo a rinnovare l'umanità intera che manifesti la sua potenza e la sua gloria e porti tutta la chiesa a ottenere vittoria su ogni forza di mare per conseguire quei beni eterni e luci ha promesso a lui sia gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amen e la gloria del signore per intercessione sant'andone abbate oggi fratelli si manifeste nella vostra vita e vi sorregga in ogni battaglia che state affrontando sapendo che la vostra battaglia non sarà vana ma vi condurrà a conseguire quei premi il signore ha promesso quando gli rimangono fedeli amen